Siamo in compagnia di Roberto Lombardo, ciao Roberto. Ciao a tutti. Ciao, allora sei stato l'artefice e il protagonista del pareggio della Rocca. Sei entrato nel secondo tempo ma lasci spesso il segno, giusto? Sì, diciamo che ci abbiamo creduto fino alla fine, volevamo assolutamente il pareggio. È arrivato, siamo stati veramente bravi ad arrivare al pareggio. Ti sei fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, lì c'è stata un'indecisione un po' loro, però è importante trovarsi lì. Diciamo così, sì, diciamo che la palla è capitata lì e fortunatamente ero lì e ne ho approfittato. Dicevamo con il mister che già mercoledì abbiamo l'infrasettimanale, per cui la rosa lunga è molto importante, bisogna farsi trovare pronti. Sì, diciamo che adesso finita questa partita abbiamo già a avere la testa sul campo per la prossima, impegnarci, lavorare e non mollare niente. Ok, Roby, ciao, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.